La spressa è un formaggio tipico delle valli giudicarie, è una DOP dal 2004, riconosciuta dal Ministero. È un prodotto proprio nostro, del nostro territorio. La spressa è prodotta con il latte di noi allevatori delle valli giudicarie e l'edro. Spressa significa formaggio spresso. In poche parole il formaggio viene spremuto dal suo grasso, dalla maggior parte possibile del grasso. È un formaggio molto tradizionale, fatto come una volta, senza l'uso di additivi, molto digeribile e anche decisamente gustoso. La spressa è un formaggio antico, tipica del nostro territorio, che ha una stagionatura medio-lunga. Per me la spressa è il frutto dell'impegno e della passione della mia famiglia e dei tanti allevatori della nostra valle. È un prodotto unico e genuino e questo ci rende orgogliosi di quello che facciamo. Siamo in Val di Ledro e i nostri animali li alimentiamo tutti con foraggi, autoprodotti nella nostra amata valle. Quando mangio un pezzo di spressa sento che è mia, sento che è fatta qui, è fatta da noi. È il sapore delle nostre montagne. Penso a tutte le mucche, quando le vedo in giro al pascolo, tranquille, mi sembra di rilassarmi anche a mano.